Un minuto con padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla via Crucis monumentale, per raccontarvi quello che accadde il 4 dicembre del 1928. Padre Pio si reca in paese a San Giovanni Rotondo, viene accompagnato dal suo superiore, padre Raffaele da Santa Maria Pianisi e va a trovare il dottor Francesco Ricciardi, un dottore che è sempre stato ateo, ma era gravemente malato e in fin di vita. Esprimeva però in quel momento il vivo desiderio di voler ricevere i sacramenti soltanto da padre Pio, era in punto di morte. Padre Pio va a casa sua accompagnato da padre Raffaele, entra nella sua stanza, lo vede a letto, parla all'uomo che era in fin di vita, lo confessa e poi quando sta per andare via, come si fa spesso salutando i malati, si gira e dice al dottore ci vediamo in convento. Testuali parole le trascrivono coloro che erano presenti e poi va via, il Dottore Francesco Ricciardi guarì da quello che era un tumore. Morì naturalmente il 13 giugno del 1932, dopo diversi anni.